L'Italia intera si ferma, è l'obiettivo sotto cui si riuniscono alcuni dei maggiori movimenti nazionali di tutta Italia, fra cui la LIFE, ovvero i liberi imprenditori federalisti europei, l'Associazione Italiana Trasportatori, l'Azione Rurale Veneto fino ai Forconi, il movimento siciliano. Un coordinamento nazionale dunque che anche qui in Veneto conta dal 9 dicembre di fermare l'Italia per cacciare i criminali che stanno al potere, recita il volantino, ci stanno portando alla fame continua, stanno distruggendo l'identità di un paese. 9 dicembre bloccheremo l'Italia intera, la bloccheremo perché siamo stufi di essere vessati, strozzinati, ridotti alla miseria, alle disoccupazioni, alla migrazione forzata. Blocheremo l'Italia a oltranza perché non andremo a patti più con nessuno. Un blocco totale dunque si preannuncia, tanto da raccomandare gli italiani di fare provviste per tempo, visto il coinvolgimento anche degli autotrasportatori. Dal 9 dicembre dunque l'Italia che produce, recita sempre il volantino, di qualsiasi settore, dei disoccupati, dei precari, dei giovani, degli studenti, dei padri, delle madri, dei figli e di chiunque voglia dire basta, recita sempre il volantino, scenderà nelle strade e nelle piazze. Un movimento che in tutta Italia sta comunque raccogliendo numeri importanti. A oggi siamo diventati più di 100 associazioni che hanno aderito e migliaia migliaia di persone comuni, operai, mamme, studenti, pensionati, tutti pronti a scendere per le strade il 9 dicembre ad oltranza.